La vicenda che precede il racconto che abbiamo ascoltato questa sera è quella di un giovane che si avvicina a Gesù chiedendogli qualcosa di bello. Che cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù risponde qualcosa che può essere ovvio, però gli dice rispetto ai comandamenti, no? Sostanzialmente è quello. Allora questo giovane dice allora io questo già lo faccio ma non è questo che sto cercando perché altrimenti sarei stato già sazio. Cosa c'è di più? E Gesù risponde innanzitutto con uno sguardo fissato lo lo amò. E già questa è forse la risposta. Però poi aggiunge se vuoi essere perfetto va, dai via tutto quanto, quello che possiedi. Poi torna, seguimi. E tutto l'entusiasmo di questo ragazzo si stronca a questa richiesta perché ci dice il Vangelo possedeva molti beni e non era disposto a lasciare. Non era disposto a liberarsi o non era capace di liberarsi. Tant'è che poi questa scena un po' turba anche tutti quelli che hanno partecipato. Gesù continua e esclama così è proprio difficile che qualche ricco entri nel regno dei cieli. E c'è lo sconcerto nelle persone che erano con Gesù come per dire Signore, allora è qui chi riuscirà a entrare nel regno dei cieli? E Gesù rassicura dice all'uomo sicuro non è possibile ma a Dio sì. E si apre quindi uno spiraglio. Tant'è che poi c'è un po' questo discorso sul lasciare con Pietro che dice ma noi Signore abbiamo lasciato tutto e Gesù fa notare una piccola conseguenza del lasciare tutto ossia ricevere il centuplo in qualsiasi cosa madri, fratelli, campi, mogli tutto quanto. Ma sono parole vere queste? Sono parole vere che possiamo constatare nella nostra vita o è solo una bella favoletta che Gesù ha detto tanto tempo fa? E però poi in fin dei conti chi lascia qualcosa l'ha lasciato punto e basta. Una delle patrone una dei santi patroni della GMG che si svolgerà in Portogallo quest'estate è la Beata Giovanna appunto dal Portogallo che entra in questo contesto proprio perché anche lei era molto ricca quanto ricca ma molto più ricca di questo ragazzo qui del quale abbiamo parlato poco fa e quindi a volte magari noi pensiamo ma magari qualche anno fa ancora di più adesso un po' di meno che essere principe o principessa o re sarebbe stato qualcosa di bello per noi ma che cosa vuol dire essere re o essere principi e principesse nella società di oggi? E vuol dire quella sicurezza che ti fa stare bene vuol dire avere più degli altri vuol dire avere quel di più che poi gli altri ci guardano come per dire oh io sono il meno ecco quindi abbiamo se non proprio il castello anche noi dei simboli che richiamano questo mondo in cui noi siamo quelli che comandano noi siamo quelli privilegiati quelli che fanno le leggi e gli altri quelli che dovrebbero obbedire anche noi andiamo un po' appresso a questo modo di voler leggere la vita dove siamo siamo nella famiglia nel gruppo di amici sul lavoro e questa ragazza però fa qualcosa di nuovo ovviamente quando sei in quella posizione ti vogliono sposare in tanti ti vogliono proprio sposare in tanti e a lei non mancavano queste proposte allettanti se non che lei capisce che in quella vita non è contenta e che il vero tesoro non è in tutte queste cose che abbiamo detto ma è nel ribaltamento della situazione lei vuole essere quella che si mette a servizio non quella che dà ordini lei vuole essere quella che subisce delle scelte non quella che le impone e tutto l'oro che ha tutti i bei vestiti tutte le comodità non bastano a saziare questa sete di amore che lei ha e che sente che potrà esprimere solamente fuggendo da quella prigione d'oro allora inizia a rifiutare le proposte di matrimonio ma non è semplice perché questa è anche una bella verità che lei ha scoperto quando sei principessa ossia quando sei in quelle posizioni che gli altri invidiano molti si avvicinano a te ma non perché ti amano perché gli servi e questo deve scuotere anche un po' noi perché molto spesso anche noi senza che ce ne rendiamo conto e parliamo di amicizia parliamo anche di relazioni affettive tra familiari parliamo di fidanzamenti tante volte anche noi ci avviciniamo un'altra persona credendo di amare quando in realtà quella persona rappresenta solo un piccolo tassello che ci manca per levarci un capriccio che poi passato quello passerà anche quella persona allora l'esperienza di questa sorella ci deve far capire questo che essere principi o principesse ci pone al centro di tantissimi inganni perché le persone smettono di vedere la persona e vedono solamente che cosa riveste quella persona questa è l'esperienza simile a San Francesco pensiamo al padre come lo vedeva per un po' di tempo Francesco è stato un orpello al disegno perfetto che aveva il padre di fare la figura del nobile davanti agli altri allora Francesco può spendere anche più di quello che abbiamo basta che se ne parli bene in città e poi pure pubblicità vengono a comprare le stoffe di quei vestiti da me allora Francesco deve puntare in alto Francesco che faccia il cavaliere Francesco un cosino così mingherlino malaticcio doveva andare a fare la guerra spinto da sta roba è caduto malato immediatamente se Francesco chissà fosse stato libero dai sogni del padre che cosa avrebbe combinato da subito e appunto per questo anche Francesco si nutriva di questo ego finto che stava diventando pure lì un po' principe si era perduto e che fatica per ritornare in piedi e ritornare sulla strada però si può lasciare si può lasciare non c'è ricchezza che ci dà la sicurezza che ci salva la vita perché la sicurezza non ce la danno queste cose ma ce la danno le persone che ci amano e le persone che ci amano vengono da noi solamente se gli lasciamo le porte aperte essendo liberi da altri tipi di certezze quelle che ci fanno sentire grandi ma che allo stesso tempo ci fanno sentire tremendamente soli allora qual è il senso di riceverai cento volte quello che hai lasciato nel senso che se il rapporto col tuo amico col tuo fratello col tuo fidanzato è malato fai bene un attimo a fare un passo indietro e a riconquistare la tua comunione con Dio perché tramite quella quando quel rapporto sarà liberato dalla tua malattia di possesso di guadagnarci qualcosa allora tu ritroverai quel fratello ma non una volta lo ritroverai cento volte tanto perché sarà veramente lui se la tua casa per dire i tuoi beni tu la lasci nel senso che fai un respiro da quello che deve rappresentare per gli altri e lo fai il posto dell'accoglienza il posto dove non tu ti arrocchi ma il posto dove anche tu riesci a fare chiesa ecco che la tua casa diventa cento volte quanto era prima così anche le tue capacità quando smetterai di tenerle tutte per te gelosamente di utilizzarle solo per il tuo successo per la tua carriera allora lì le ritroverai cento volte tanto e ancora di più perché non le gusterai solo tu ma le gusteranno anche tutti gli altri alle quali le farai gustare allora vedete la ricchezza vera qual è non è quella delle cose perché con le cose abbiamo detto non si è soli perché tante mosche si avvicinano ma il cuore è solo liberandosi invece dalle cose ecco che il cuore si riempie della vita degli altri questa è l'esperienza dei nostri santi e questa è la preghiera che vogliamo elevare oggi tutti insieme sotto l'ispirazione della beata Giovanna di Portogallo quella di fare un passo indietro dalle nostre ricchezze per acquisire libertà un passo indietro dalle persone ricche ossia quelle persone che sembra ci possono dare quel qualcosa in più perché? perché noi abbiamo già un cuore che è un qualcosa in più se riconosciamo che Dio ci ama e che ci rende belli che ci ha creati belli grazie a tutti